... Elisabetta Eduppe, avvocato e presidente di Assocond Riguria, ma... ...va a tutelare i condomini, perché ci sono le associazioni degli amministratori di condominio, ma ci sono anche le associazioni di condomini e Assocond è la principale in questo senso nella nostra regione. Avvocato Eduppe, parliamo di condomini senza acqua per morosità. Stamattina ci è arrivata una segnalazione, lo diciamo, e se la persona che ci ha chiamato questa mattina all'ascolto ci richiami, perché non siamo più riusciti a metterci in contatto con l'Embra. Ci parlava di uno stabile che è senza acqua per la morosità di alcuni condomini. Cosa significa tutto questo e perché accade? Accade per una molteplicità di cause, talvolta per colpa e responsabilità dei condomini, talvolta per negligenza da parte dell'amministratore del condominio. Infatti recentemente nella nostra associazione si sono rivolti due condomini che sono rimasti senza scensore, senza acqua, perché l'amministratore non ha correttamente pagato le utenze. Che cosa è successo in sostanza? I condomini tutti i mesi la loro quota la pagavano? Pagavano gli oneri di amministrazione. Ma chi riceveva la quota anziché versarla al fornitore di servizi se la teneva? Eh, presumibilmente, non si può accusare se non vi è una sentenza di condanna, però così è stato. Tant'è che uno di questi, con l'aiuto dell'associazione, ha cambiato l'amministratore di condominio. Proprio perché è venuto fuori che la negligenza era imputabile solo a lui. Ma non sempre è colpa dell'amministratore del condominio, intendiamoci. Ecco, succede a volte che c'è il condomino moroso e per colpa di qualcuno ne fanno le spese gli altri? Allora, adesso teoricamente non è più così. Sì, infatti questi casi limiti, come il cittadino che ha chiamato stamani, è un caso limite, appunto. Però attualmente vi è una norma che grazie alla già dibattuta e discussa riforma del condominio, la legge 220 del 2012, è stata modificata. Prima infatti si aveva una sorta di solidarietà tra i condomini morosi. Quindi tutti potevano rischiare di essere causa e di essere pignorati, esecutati, se alcuni condomini erano morosi nei confronti dei terzi creditori. Nella sentenza del 2008, l'importante sentenza della Cassazione a sezioni unite, ciò è stato completamente modificato. Dal principio di solidarietà si è introdotto il principio di parzialità. Giascun condomino era responsabile per le proprie quote di millesimi, quote di proprietà. Adesso la legge 220 ha portato una modifica leggera a questo principio, una solidarietà attenuata, una parzialietà specifica. Il dottor Scarpa della Corte di Cassazione dice sempre di non volerla imbottigliare in una determinata definizione giuridica. Fatto sta che adesso un terzo creditore può agire nei confronti dei condomini morosi, e quindi chiedere all'amministratore gli indirizzi, l'anagrafica dei condomini morosi e per la quota di proprietà di ciascun condomino agire nei confronti dello stesso. Quando agisce nei confronti dei condomini e arriva alla fine del procedimento di esecuzione, che generalmente termina con un pignoramento, pignoramento mobiliare, immobiliare, dello stipendio, del conto corrente, insomma, finisce, e il creditore non è ancora stato soddisfatto completamente, si potrà dedicare ai condomini che non sono morosi. E questa è la parte un po' agghiacciante della vicenda, perché io rischio di andare a pagare per quello che non ha pagato, detto proprio fino in fondo, o per quello che magari con dei mezzucci, purtroppo a volte come capita, quando fallisce un'azienda nella quale magari chi la fa fallire è cosciente di farla fallire, non per difficoltà, ma diciamo così, distrae il patrimonio, come si dice in questi casi, in termini tecnico, e tu resti all'asciutto come accreditore. 10.30, facciamo una cosa, ci fermiamo per qualche istante, se vi ritrovate in queste storie, in queste vicende, chiamate l'800-640-771, ma anche per sottoporre altre tematiche, proprio su questo tema, perché siamo partiti dal caso specifico, per parlare dalle responsabilità dei condomini verso i morosi, che è un fatto purtroppo attuale, è molto importante, è vero? Esatto, sì, sì. Rieccoci assieme, rieccoci le 10.33, potete chiamare l'800-640-771, come ogni martedì a quest'ora c'è l'agenda del condominio, e oggi in compagnia dell'avvocato Elisabetta Eduppe, che è presidente di Asso Condo Liguria, l'associazione che tutela i condomini. Allora, dunque, parliamo di questa responsabilità dei condomini verso i morosi. L'abbiamo parlato prima, contempla la responsabilità, la riforma del condominio dell'anno scorso, è passato quasi un anno, ma molti ancora non lo sanno, perché effettivamente, dobbiamo dire, anche fare un po' mea culpa, a volte sulle vicende del condominio si tende a delegare, il vicino che magari ha un po' più di tempo, quello che dimostra maggiore attenzione, e allora si vive spesso nell'ignoranza. Noi anche in questo spazio cerchiamo di fare un po' di cultura del condominio, che può far sorridere, ma più o meno tutti dobbiamo farne i conti e conoscere. Allora, responsabilità dei condomini verso i morosi. È stato anche normato tutto questo? Esatto, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile è stato modificato dalla legge 220 del 2012, e proprio di cui stavamo parlando prima è questo comma, il quale cita che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola coi pagamenti, se non dopo l'escursione degli altri condomini. Cosa significa? Prima, come dicevo prima, si deve agire necessariamente nei confronti dei condomini morosi, ma quando non si riesce a soddisfare la propria pretesa creditoria nei confronti degli stessi, necessariamente per soddisfarla si agisce nei confronti di quelli che poverini hanno sempre pagato regolarmente nei termini, ma che adesso si trovano comunque a dover partecipare proporzionatamente alla loro quota millesimale, anche per coloro che non hanno invece pagato regolarmente. Questo è un principio importante che tanti condomini non conoscono. Quali sono le richieste che arrivano in associazione su questo tema? Su questo tema arrivano proprio i condomini paganti, i quali dicono ma perché io devo pagare se Tizio e Caio sono tre anni che non pagano le spese di amministrazione? Tu devi pagare solo dopo e sappilo che Tizio e Caio sono stati escussi, escusi, termine bruttissimo, giuridico, significa solo dopo che l'avvocato ha fatto un decreto ingiuntivo. L'avvocato del condominio, nominato dal condominio? L'avvocato del terzo creditore, fornitore, dita paltatrice, quant'altro vuoi, ha fatto un decreto ingiuntivo e poi è passato alla fase esecutiva, cioè la fase del pignoramento, come dicevo prima. Solo dopo che Tizio e Caio sono tre anni che non hanno pagato e difficilmente saranno pignorabili perché se non hanno pagato i contributi condominali difficilmente avranno un conto corrente, uno stipendio o quant'altro. Un patrimonio aggredibile, come si dice. Esatto, io agirò nei confronti di quelli che invece patrimonio aggredibile ce l'hanno. Sì, però dobbiamo anche dire, viceversa, in questo ragionamento, avvocato, che fino a quando non è stato fatto questo passaggio, il condomino puntuale nei pagamenti non deve pagare per l'altro. Prima deve verificare che c'è stato questo percorso e che questo percorso non è andato a buon fine. A quel punto allora eventualmente andrà a pagare. Altre situazioni invece riguardano gli amministratori, diciamo così, che come si diceva prima, magari non pagano i fornitori la quota che è stata corrisposta dai condomini. Perché talvolta gli amministratori non si sono ancora adeguati alla normativa, non hanno distituito un conto corrente per ogni condominio da loro gestito, quindi diciamo che c'è un po' di confusione nei vari conti correnti. Può capitare che poi un conto corrente sia in rosso, proprio di quel condominio, non si possa pagare con la determinata utenza. Questo nel migliore dei casi. Poi come in tutte le categorie professionali, l'attività di amministratore può anche essere soggetta a comportamenti di mala fede, di negligenza e quant'altro. In questo senso non è un qualcosa di ufficiale, però anche voi come condomini, come rappresentanti di condomini, vi state tutelando, creando una sorta di... Abbiamo la nostra black list, come la chiamiamo noi, in modo che i condomini che si rivolgono a noi e ci comunicano un nominativo di cui ci sono già state comunicate cose poco chiare, inserimenti nel casellario giudiziale o quant'altro, possiamo dare un'importante informazione al condomini dicendo attento, il soggetto è così. Non necessariamente deve essere in mala fede, ma inserito in una black list perché determinati i suoi comportamenti hanno già dato adito ad altre problematiche condominali. Avvocato, in questo senso, a livello ufficiale, istituzionale, non esiste una lista degli amministratori cattivi e uno degli amministratori buoni. No, ma intendo, adesso non voglio, Avvocato, con questo generare il motivo o la riflessione del tormentone che gli amministratori sono tutti, anzi, la gran parte, il 95%, il 98% sono persone serie, professionali, che si aggiorano con le varie realtà, con le varie astuzioni. Esatto. Poi c'è quel 2-3% che invece se ne approfitta. Allora io dico questo, però, questo 2-3% non potrebbe essere ulteriormente circoscritto proprio da un elenco ufficiale laddove vengono non riscontrate nei si dice o nelle tendenze, ma attraverso delle sentenze o comunque dei provvedimenti d'autorità giudiziaria la loro dolosità? Certo, il casellario giudiziale è d'ora un elemento importante. C'è Emanuele Zerbori che ci chiede la linea, poi torniamo su... Sì, un aggiornamento a livello nazionale, una notizia che sta facendo il Giro d'Italia. Agenzia Territoriale di Torino favori in cambio di appalti 10 persone in manette. Possiamo aderla anche dal nostro sito primocanale.it I carabinieri stanno eseguendo una decina di misure cautelari in gran parte a resti domiciliari nei confronti di dipendenti dell'Agenzia Territoriale della Casa di Torino. L'inchiesta partita l'anno scorso è quella sui favori ricevuti in cambio dell'assegnazione di appalti di manutenzione dei caseggiati pubblici del capoluogo piemontese. coordinata dal PM Sara Panelli aveva 5 indagati, 4 dirigenti ATC, un imprenditore, ma ora si è allargata. Te... Il paese che va, insomma, la situazione che trovi, qua parlavamo di, diciamo così, di amministratori, e qua invece si parla di amministratori pubblici e di un'altra storia, ma sempre amministratori sono. Dicevo, quindi, voi come Assocon avete una blacklist? Abbiamo la nostra blacklist interna, in modo, un po' sul passaparola, un po' grazie a noi avvocati anche sulla visione di eventuali condanne nei confronti dell'amministratore e quindi sappiamo chi l'ha ricevuta e chi non l'ha ricevuta e chi ha i carichi pendenti o quant'altro. Quanti sono gli amministratori della blacklist qua a Genova? Noi ne abbiamo solo una decina e siamo un'associazione giovane, neanche due anni, presumibilmente le associazioni più anziane e più competenti di noi avranno una blacklist molto più lunga, ma io ritengo che ciò sia presente in tutte le categorie professionali, anche nella mia, come nella sua e in quelle degli altri. C'è sempre il soggetto che in malafede agisce per un suo interesse personale, alla fine della fiera è quello. Gli amministratori, essendo poco codificati, adesso con la legge 220 lo sono un po' di più, cominciano a essere un po' arenati nelle loro attività e quindi non possono più di tanto fare ciò che vogliono. Anche questo del conto corrente, come dicevo prima, ora ogni condominio deve avere un conto corrente e non che l'amministratore passa i soldi da un condominio all'altro e poi si crea e si genera una confusione che noi in Assocon solo che l'altro ieri abbiamo dovuto organizzare e passare delle ore a mettere a posto, quindi nel senso... C'è una telefonata e poi parleremo di un caso particolare direi anche quasi divertente, però che riguarda molti. Allora, siccome la cosa si è diffusa, la notizia, per quanto cerco scritta si è diffusa, bisogna fare magari anche una precisazione. Prima però voi da casa. Pronto? Pronto, buongiorno. Mi scusi, posso fare una domanda? Allora, mi dica il suo nome e da dove chiama? Allora, chiamo da Lagaccio. Il suo nome? Tonino. Tonino da Lagaccio. Ci dica, Tonino. Sì, io volevo sapere una cosa. Quando abbiamo ricevuto la convocazione per l'Assemblea, devono apparire i nomi dei proprietari o anche degli eredi? Prima domanda. Prima domanda. Seconda domanda è, il documento che ci ha chiesto l'amministratore, aspetta che non lo vada a leggere, ma non l'ho trascritto, identificativo di proprietà con indicati dei dati catastali. Deve essere anche presentato a noi. Lo posso vedere io come proprietario dell'appartamento per gli altri? Sta parlando dell'anagrafe condominiale, mi pare di capire, il signor Tonino. Allora, vediamo se possiamo dare delle risposte. Resti di Tonino, perché se ha da integrare il suo quesito l'avvocato è pronto a rispondere. Allora, partiamo dalla questione della convocazione. Deve essere inserito il nome del proprietario o anche degli eredi? Allora, se vi sono gli eredi è ovvio che non vi sia un proprietario, c'è un decuius e gli eredi dello stesso. Il nome del proprietario sì, sempre, comunque. Oggi si parla degli avventi diritto alla convocazione, non dei proprietari in generis, ma degli avventi diritto. Gli avventi diritto sono anche gli eredi. però bisogna fare una specifica. L'amministratore non è obbligato a conoscere il nome degli eredi e gli indirizzi degli stessi. Sono gli eredi che si devono attivare per far conoscere all'amministratore la loro qualità di eredi del decuius. Ok? Quindi, la mancanza di convocazione degli eredi non è un difetto dell'amministratore nella sua convocazione, ma è una necessità di organizzarsi e di dare all'amministratore la conoscenza della situazione di con i mobili. Insomma, caro erede, sei tu che ti devi mobilitare per farti conoscere dall'amministratore. Esatto. Signor Tonino? Sì, è quell'altra, però... L'identificativo della proprietà? Allora, per quanto riguarda l'anagrafe, l'identificativo della proprietà è quello che l'amministratore vi ha richiesto direttamente per l'anagrafe condominiale, altro elemento introdotto con la legge di riforma del condominio. Lei può dare la sua dati catastali, ma non conoscere quello che necessariamente gli hanno dato gli altri condomini. Ovvio che può chiedere all'amministratore dell'ucidazione in merito qualora vi siano situazioni poco chiare che lei ritiene tale, quindi parlare con l'amministratore, ma chiedere potrebbe essere considerata una violazione della privacy. Parlo al condizionale, perché non essendoci giurisprudenza a seguito della legge di riforma non posso oggi sapere se una anagrafe condominiale richiesta da un condomino possa essere o meno una violazione della privacy. Io ritengo di sì, ma se l'amministratore a farla conoscere potrebbe non essere considerata tale. Tonino, soddisfatto? No, però volevo sapere un'altra cosa e chiedo scusa. Sì, prego. Nell'appartamento che viene affittato un appartamento ci abitano due persone poi se ne infiltrano 4, 5, 6, 10 come posso saperlo io? L'amministratore ecco, deve darne renderne conto lo sta, non lo sta deve farci partecipi a noi o no? Allora, l'amministratore non gliene deve rendere conto nel momento in cui vi è un inquilino vuol dire che vi è un contratto di locazione regolarmente stipulato ciò si spera e regolarmente registrato nel contratto di locazione c'è la necessità di indicare anche i soggetti che vivono con l'inquilino moglie, figli, cugini e chiunque gli voglia solo quei determinati soggetti possono entrare nell'abitazione tutti gli altri non possono salvo che non vengano per periodi brevi insomma per periodi di vacanza se no gli obbligati i titolari a stare nell'abitazione sono coloro che sono indicati nel contratto di locazione c'è un limite temporale tra il passaggio temporaneo e la permanenza nell'abitazione cioè è la discrezionalità è ovvio che se io comunico al proprietario e non all'amministratore di condominio viene mia figlia perché si parla di magari soggetti immigrati eccetera viene mia figlia per tre mesi perché deve fare una cosa comunico che viene mia figlia per tre mesi e non succede niente certo è che comincio a dire viene mia figlia per un anno devo fare un attimino la modifica del contratto comunque un tempo si denunciava la questura tutti i soggetti che erano all'interno di un'abitazione attualmente non c'è più questa automatica questa denuncia da parte di chi fa il contratto ma c'è la necessità di indicare nel contratto di locazione comunque sono gli inquilini i responsabili nei confronti dei terzi qualora si cagionino dei danni ma il povero amministratore da questo punto di vista deve far capo al proprietario ed è il proprietario responsabile a una colpa invigilando di coloro che inserisce nel proprio immobile ha capito Tonino? sì perfetto solo devo dire quella parola che ha detto l'avvocato poverino l'amministratore perché tanto poverino poi non è però bisogna fare delle distingue perché poi se no si entra nel luogo comune piove governo ladro adesso piove potremmo dire governo ladro e andiamo avanti così non la finiamo più secondo me dobbiamo circostanziare quello che proviamo a fare anche qua nel nostro spazio grazie Tonino per essere intervenuto grazie a lei arrivederci allora stiamo per salutarci però prima andrei a vedere questa notizia molto divertente divertente però anche un po' allarmante perché il titolo dice il condominio paga anche il cane una donna di Reggio Emilia se vista recapitare le spese per il Labrador consuma acqua pure lui ora è vero povero cane deve bere consuma acqua si deve anche un po' lavare non da solo ovviamente se no sarebbe un cane da cinema però insomma che cosa significa tutto questo? ma è un caso limite che fa sorridere ma che fa anche pensare cioè significa che a Reggio Emilia nei condomini di edilizia pubblica che sono autogestiti quindi si danno dei loro regolamenti interni diverso da come facciamo noi a Genova hanno deciso che gli animali di razza grande e non di razza piccola debbono pagare loro pro quota la metà di quanto possono pagare i singoli proprietari questo perché è stato giustificato dall'amministratore di quel condominio dicendo che il cane non solo beve non solo viene lavato ma usufruisce anche dell'ascensore piuttosto che delle scale per arrivare alla propria abitazione tutto questo però non ha fatto il presidente giurisprudenziale no 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 è solo un caso che momentaneamente è circoscritto a Reggio Emilia ma che leggendo i commenti intorno ad esso in alcuni casi è presente anche in altre parti d'Italia quindi che succede se in un condominio della Liguria succede una cosa del genere ci si può deve essere regolamentato comunque deve essere nel loro caso è regolamentato quindi fa parte del regolamento contrattuale presumibilmente o che è assembleare ovviamente quindi torniamo a un tema del quale tra l'altro ci siamo occupati anche nelle scorse settimane state per comprare una casa guardate il regolamento guardate il regolamento condominiale esatto e le delibere che sono state effettuate poco prima della vostra acquisto perché comunque quando voi entrate nella casa di fatto accettate anche il regolamento condominiale esatto e quindi se c'è una diciamo così un vincolo come quello che leggiamo qua a Reggio Emilia dovete essere conoscenti e consapevoli non è un senso questo è il messaggio che dobbiamo dare perché altrimenti si generano poi delle spiacevoli situazioni di rapporti conflittuali e poi anche di sanzioni perché poi sanzioni poi il regolamento adesso viene oggetto di sanzioni se non viene rispettato sanzioni che prima erano un centesimo adesso si passa da 200 euro 800 euro insomma parliamo esatto avvocato Dupo grazie per le riflessioni di oggi e allora noi ci fermiamo con l'agenda del condominio ci rivediamo martedì prossimo tra poco ci rivediamo per tutte le altre notizie